Mirko De Berardinis, Terra Monostra interviene sull'accorpamento delle province. Terra Monostra interviene sull'argomento e devo dire, Terra Monostra ha osservato in questi giorni diversi interventi sull'abolizione delle province ma ormai sembra che quasi tutti diano per scontato che la nostra provincia è stata tagliata ed è partito così il toto accorpamenti, chi propone di andare con Ascoli, chi propone con Pescara, con Chieti, con L'Aquila come se di fatto ormai la provincia di Terra Monostra non esista più. Al contrario Terra Monostra non getta la spugna, continuerà a difendere Terra Monostra, città-capoluogo. Per questo motivo però lancia un appello doppio, un appello in particolare ai nostri cittadini teramani, ai nostri 55.000 concittadini affinché intervengano il nostro ausilio, affinché facciano sentire la loro voce per difendere Terra Monostra e città-capoluogo e poi un appello grande alle nostre istituzioni politiche perché dobbiamo dire che finora, fatta eccezione per il Presidente della provincia Walter Catarra, di fatto quasi nessuno è intervenuto se non con comunicati scritti in politichese dove non è chiara la posizione. Noi facciamo appello in particolare ai nostri parlamentari, deputati e senatori teramani, facciamo appello al Presidente Chiodi che è teramano, agli assessori regionali, consiglieri regionali, affinché venga salvata Teramo come città-capoluogo e qualcuno, siamo convinti, dirà ecco, Teramo Nostra sono i soliti campanilisti. Beh, noi diciamo che se essere campanilisti significa difendere Teramo, che negli anni è stata già scippata di una serie di enti e uffici e che oggi rischia con questa decisione di morire, di spegnersi completamente, allora sì, siamo campanilisti e difenderemo Teramo fino alla fine.